Basta che ti guardi intorno. Di che cosa avrei bisogno per concepire l'esistenza di Dio? Commento. Non è necessario avere il sesto senso, il terzo occhio, essere medium, eccetera. Se tu senti la spinta interiore che ti porta verso l'assoluto, basta che ti guardi intorno con occhi sinceri, in cui la tua maschera umana sia più trasparente e ti accorgerai che non dovrai cercare lontano, ma che Dio è dentro di te perché ti circonda, ti ammanta e unito a te. È talmente unito a te che non lo devi nemmeno cercare inutilmente con la mente, perché è già te. Grazie. Grazie. Grazie.